ecco ragazzi un altro esercizio da vedere insieme andremo a lavorare sempre stabilità dell'addome e lo assistiamo oggi andremo a lavorare sulla parte del dorsale Sofia ed Evelyn ci posteranno tutto ciò prego per cui posizione di plank di Evelyn dove andiamo a lavorare sull'addome plank appoggiato gli altri Sofia prende le caviglie avvicina bene i piedini butta dietro il busto il petto fuori butta il busto di avanti ok andiamo alla mano il corpo e le mani fermo andiamo a lavorare sulle mani fermo perfetto questo andiamo a tonificare la parte del dorsale a lavorare sull'addome con Evelyn